Conclusi gli adempimenti fiscali, il CAF della UIL traccia il bilancio delle proprie attività e dei servizi rivolti ai cittadini. Alla presenza del Presidente nazionale Giovanni Angileri, presente ieri a Termoli nella sede di Via Pertini, i dirigenti del sindacato hanno aperto una discussione ampia sulle numerose tematiche legate al fisco e sulle proposte della UIL inoltrate in questi giorni al Governo, come spiegato dal segretario regionale Tecla Boccardo. Andavanti anche delle proposte della UIL per rendere una politica fiscale più equa, una politica fiscale che sia più attenta veramente a quelle che sono le fasce di reddito. Sappiamo che l'evasione fiscale è altissima e sappiamo che è necessario ridisegnare anche le fasce IRPEF perché è necessario che ci sia una maggior equità. È necessario però anche rinnovare i contratti, è necessario aumentare i salari, è necessario rispondere a quelle che sono le aspettative dei lavoratori, anche dal punto di vista previdenziale ad esempio, perché questo è un momento in cui si sta anche affrontando con il Ministero del Lavoro tutta la questione della previdenza. Intanto il lavoro del CAF UIL ha fatto registrare un milione di pratiche a livello nazionale, mentre in Molise sono oltre 18.000. Numeri importanti hanno commentato dal sindacato, il quale ha messo in evidenza inoltre come sia migliorato anche il rapporto tra lo Stato e i cittadini, grazie all'intermediazione professionale degli operatori specializzati dei centri di assistenza fiscale, tra le varie incombenze anche quelle del reddito di cittadinanza con 100.000 pratiche evase. A livello nazionale sulla questione, questa l'analisi del Presidente Angileri. È andata bene per noi per il numero di domande che abbiamo trasmesso all'Inps, noi abbiamo trasmesso circa 100.000 domande su un numero complessivo di oltre un milione di domande. Per cui sui numeri per noi c'è stata la nostra percentuale, la nostra fetta di mercato e quindi possiamo dire che i numeri sono lusinghieri. Certamente non possiamo dire dall'altra parte, qui un po' anche la dirigente sindacale, non solo da Presidente del CAF, noi pensavamo che le politiche attive del lavoro sarebbero state un po' diverse. Il reddito di cittadinanza sì, molto buono, perché doveva aiutare l'inserimento nel mondo del lavoro di chi oggi non aveva un'occupazione. E con la stessa visione vedevamo i navigator, cosa che purtroppo ad oggi i navigator sono stati assunti, ma non hanno avuto quel ruolo e quella funzione che si sperava nella stessa legge, che era quella di indirizzare i disoccupati nel mondo del lavoro. accadrà anche a livello di futuro. Per cui se lo stimolo in più, per sostenere anche psicologicamente a volte, perché accade anche questo. E quindi io, Roberta, vi ringrazio, ma soprattutto la ringrazio per la competenza. Abbiamo scelto bene, abbiamo scelto bene.